Allora, la soluzione di questo maledetto enigma, che io ho odiato profondamente, dovrebbe essere questa. Allora, qui ci va questo, ovviamente, questo qui. Adesso ve lo faccio rivedere, ma è già scritto lì nell'immagine, è ok. Qua ci va il re, il re, che mettete così. Anzi, poi, qui ci va, non l'alfiere, che sto a di. No, il re qui e là, cos'era che ho sbagliato? Qua ci va il re e qui era la regina, la regina, la regina. Ho sbagliato, sorry, ok. E fin qua, questa è la prima parte. Qui ci va il cavallo, come nell'immagine poi è descritto. E qua ci va il, anzi, il, l'alfiere, è ok. Mentre di qua ci va la torre. Ok, ce l'abbiamo fatta. È stato complicato, ma ce la si è fatta. Ok.